Ok, venga inserito. In sinistra 50. Destra 2, in destra 2. E sinistra 2, non tagliare. In destra 3. In destra 3 ancora, 30. Destra 3, per sinistra 2, lunga. In destra 3, meno, che apre 50. Destra 3, meno, apre 50. E sinistra 3, che apre... No, no, non tagliare. Sinistra 3, apre 30. No, no. Destra 3, per sinistra 3, meno, meno, su ponte. E subito sinistra 2, no. Subito sinistra 2, no. Ancora sinistra 3, meno, in destra 3. In sinistra 3 e al palo, destra 3, meno. In sinistra 3 e in destra 3, meno. 20. Al salto, stai a destra. 30. Destra 4, meno, 30. E destra 2, taglia. Per sinistra 3, che apre. In destra 3. E in sinistra 4, meno, che apre 100. Destra 3, 30. E poi destra 2, sulla ghiaia. Destra 2, sulla ghiaia. Occhio e sinistra 2, inversione. 20. Destra 2, no. E altri 20. Sinistra 4, apre 20. Destra 3, apre 20. E destra 2, no. Destra 2, no. Per sinistra 3, in destra 3. Sinistra 3, in destra 3. E in sinistra 3, meno. E poi, deviazione destra, in sinistra 2, meno. Deviazione destra, in sinistra 2. E in sinistra 1, inversione. Inversione sconnessa, per destra 3, meno. Inversione sconnessa, per destra 3, meno. Per destra 3, meno, ancora. E 20. Sinistra 4, in destra 2. Occhio, destra 2. In sinistra 2. Destra 3, e ancora destra 3, 20. Altra destra 3, altri 20. E destra 3, meno, per sinistra 3. Destra 3, meno. Per sinistra 3, che apre dosso. E subito, sinistra 2, sporca, molto sconnessa. Sinistra 2, sporca, sconnessa. Per sinistra 3. Per sinistra 3. Sinistra 3, per sinistra 3, 20. E sul dosso, destra 3, altri 20. Sul dosso, destra 3, altri 20. E sinistra 3, e altri 20 ancora. Molla.